Nuova regolamentazione stradale in zona Moio che sta facendo discutere tra i residenti del rione agropolese. I provvedimenti presi dal comando di polizia municipale di Agropoli e dal suo funzionario responsabile, Carmine Di Biasi, sono due. Un'ordinanza che pone il divieto di sosta e fermata in via Gennaro Serra ed un'altra che dispone il divieto in piazza Moio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Primavera e l'intersezione con via Escalonga. Dopo questa decisione la popolazione della località Moio si spacca in due. C'è chi ha richiesto a voce alta il divieto per via delle problematiche inerenti alla viabilità e chi invece è contrario a questo provvedimento. Il motivo principale per il quale i cittadini di Moio non hanno ben accettato queste ordinanze è l'effettivo disagio che esse creano, vista la mancanza di reali parcheggi. I residenti hanno portato questa criticità all'attenzione del sindaco Adamo Coppola che ha deciso di incontrare gli abitanti di Moio nel mese di settembre per discutere della situazione e al fine di trovare una soluzione per il rione agropolise.